Ci sono, eh raga, un attimo Non sono andato al concerto di TuroSwift e non avevo in programma di farlo Ho votato la terza cosa segreta Com'è finita qua? Vai, un 50-50 No, non potete fare sti scherzi Non può finire un 50-50, perfetto Credo abbia vinto One Piece per un singolo voto Ha vinto One Piece per un singolo voto E questa è la verità dei fatti? Che schifo vogliono le carte del fumettino nel posto del sano gambling Sì Sì, per un voto in realtà lo vogliono Ho vinto One Piece quindi si fa Yu-Gi-Oh Funziona così, vi ricordo No, faremo One Piece Magari Se iniziamo ora riusciamo anche a fare due bet Come hai fatto a trovarmi? Su cosa si betta? Sul cazzo di nulla Adesso bettiamo su... Niente Apriamo carte Apriamo carte Vediamo di trovare La bella ghostina No, le ghost come si chiamano qua le manga Questo box che era da tanto che Non lo rivedevamo E... Abbiamo una bella occasione Per trovare una manga Mi fa incazzare che non abbiamo trovato neanche una in tipo 5 box di questa espansione Roba del genere Fai bett trovare carta? Tosta Perché è veramente tanto difficile da trovare Sarebbe una bett molto impari Ti raccomando È un mega box? È un box core, un core set, no? Esattamente, fine Però c'è... Tipo... Cinque diverse manga art Se non sbaglio in questo set Quindi c'è la potenzialità di trovare del fuoco Grande fuoco Ed era da tanto che non ha più questo set Quindi sono molto contento di poterlo fare Prendi il quarto pacchetto di sinistra a marinare Trust Quarto pacchetto di sinistra a marinare Dice, eh? Ok Siamo la marinare nel posto segreto Come hai fatto a trovare... Pronti, ragazzi Buonasera a tutte Abbiamo qui il nostro boxone E... Cerchiamo manga art, ragazzi Manga art a cazzo Io tendenzialmente spererei un... Rufy E se non sbaglio in questo set C'è anche quello Rufy tipo firmato... Da Oda Farlocco E... Speriamo per il meglio Speriamo per il meglio Sempre impossibile aprire sta roba Quattro, cinque, sei, sette, otto Sto set l'abbiamo già aperto cinque volte Quindi insomma le common L'abbiamo già visto Non ho voglia di... Non permi il cazzo ulteriormente Usotachi Inazuma Come hai fatto a trovare E... Masuper Ulti Bellissima questa, me la ricordo Che troiaccia Che troiaccia Meravigliosa Meravigliosa Te tacce, te tacce proprio Mean Grande, grande donna lei Eh, lo so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anche 9 È un cazzo in realtà Perché scopriamo che c'è una leader E quindi in questo box In questo pacchetto non c'è un cazzo Andiamo avanti Prossimo pack Con questo pace Possiamo anche riuscire a fare dello Yu-Gi-Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Un'altra leader ragazzi Let's go Altro pacchetto Completamente vuoto Grande pace Siamo in world record pace ragazzi Qua Uh, qua strat incredibile di apertura Minchia Fra apertura tra le più veloci d'Italia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Scusate One leg toy soldier Fire fist E infine Una super Kid Bellissima, me la ricordo Gran bella carta Belli artwork Che ragazzi qua non si gioca Bella Bella Gianno Un saluto al mio amico Catanzaro Come hai fatto Screenshot vero Questo di cosa No No È un artwork Vuol dire un fireball Ecco qua Eh sì dragon buster Fortone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Miss double finger Ghedaz E infine Un'altra super Del buon Ener Bellissima carta Mi ricordo anche questa D'altro ne abbiamo aperto sto set Circa Un milione di volte Il mio grande amico Grande apertura del pacco Qua Eminem Slim Shady 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Una leader Quindi qua non c'è un bel cazzo di nulla Ragazzi Tra avanti Oh sto spaccando Ecco la velocità Raramente ho aperto così veloce un pacco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Emporio Ivankov Legend Grandissima persona Drake Infine Un'altra super Un'altra super Il buon vecchio Sabo Vai Vaffanculo vai Ancora zero fuoco eh Per ora zero fuoco Tra l'altro ho ascoltato l'ultimo album di Eminem C'è un nuovo album di Eminem Eminem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Ma qui c'è questo il set dove c'è Ma qui c'è questo il set dove c'è 8 ore Uso Hachi La mia moglie Vai fatti vedere al mondo Perché ti vergogni di me Oh What the fuck Bellissima carta Cos'è una secret Molto bella Miau 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 È un SR in realtà Molto bella però Una Alternative credo Non so Andiamo a conservarla Miau 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 Il buon monkey di Rufy Monkey di Freaky Abbiamo tolto la prima carta fuoco Di oggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Sì Amazon Because the side of justice will be Whichever side wins Giustamente E get us Vabbè Ce ne saranno altre Sì speriamo di trovare altro fuoco Che espansione è questa? Awakening of the new era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Molto bella espansione Molto bella C'è tanto fuoco Miss Double Finger Tina E infine Un cazzo di nulla Baby 5 Miau 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ma c'è anche Che cotto ori I beat 500 Million Shiroshi La miau 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 Mamma E infine Il buon vecchio Beppo Miau 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 5, 6, 7, 8, 9 Guardate che side boob E che ascella Striata Shura E infine Molto carina Parindi Aspetta Christian Grazie a cuore Per i 31 mesi Già te l'ho detto Grazie a Caramelized Nox Per i 39 mesi Grazie a cuore Carissima E grazie a cuore A Parindi Per i 15 mesi Grazie a cuore A tutte Per il supporto Ragazze mie Non merito assolutamente niente Dalla vita 1, 2, 3, 4 20 mesi Fra ragazzi di cuore 4, 5, 6, 7, 8, 9 Grazie veramente di cuore Ammo Non merito nulla E il Thor When you will see You fight against pirates E infine Molly Grande pacco ragazzi Con Molly No panettiere Altra leggenda quella 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Credo di sì Miau 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 Sì sì zuppa 4,000 brick fist Om E infine Un cazzo di nulla Mi sono spoilerato la carta Alla fine ragazzi Poiché Come vedete È il nostro Dawn Alternative Di Kaido Che viene spedito in cielo Ne abbiamo Cerca un milione In casa Diamolo via E proseguiamo No No fra Mi stanno per inculare Come l'altra volta Perché guardate Sto altro pacchetto Guardate Sto altro pacchetto Mi stanno per inculare Come ieri Guardate Sto altro pacchetto Un altro Dawn Alternative Fra Qua mi vogliono inculare Qua mi vogliono inculare Di brutto Se mi inculano di nuovo Come ieri Fra io mi ammazzo Su Fortnite Se di nuovo mi inculano come ieri È da incazzarsi È da buttare giù le pareti Da buttare giù le pareti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non c'è un cazzo perché c'è la leader Porco di cane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Un'altra leader Porco di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Low Zoro giuro È una super Rebecca Bellissima Bellissima Noi abbiamo la sua Alternative Già Guardate che pere bellissime Belle Belle pere Belle pere Sempre un bellissimo rack Nice rack lady Nice rack lady Sì ma Sto aprendo il pacchetto ragazzi Un attimo di pazienza Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nico Robin Karas Oh Un Kaido Non c'è No raga Basta Mi sono rotto il cazzo Questa carta di merda Cioè io quante volte l'ho trovata Me lo sapete dire L'ho trovata 8 volte Sto carta o no Eh L'avrò trovata 8 volte Dio porno Dio porno No dai raga basta Basta L'ho trovata 8 volte Sta carta Sono nervoso Però la voglio La voglio distruggere Io c***o Dio porno Infame Sono calmissimo Sono calmissimo Sono calmissimo Scusate tutti Sono calmissimo Dai che abbiamo tipo 4 pacchetti E poi mettiamo Yugi Dio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bastiglia Killer Una super Sì è di nuovo quella di Kiv Mancano 3 pacchetti Mettere i miei melodi Forse Sgrognac Si esco per i 4 mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nefertari Cobra Fire Fist E infine Fermi C'è un oggetto interessante Trafalgar Low E' un Ok Un'altra alternative Finalmente Questa è un'alternative Della SR di Low Finalmente Cazzo Una carta Ah se trovo un altro Kaido Mi ammazzavo Oh Bello ma fa merda Che vuol dire Ah è carino E' un bel disegno Quale braccio Cosa ho fatto Cosa stai alludendo Abbiamo Ancora due pacchetti Dentro Non avranno un cazzo Ma andiamo comunque Ad aprirli Questo non ha Proprio un cazzo Di nulla E infine Il pacchetto Che era a marinare Che però A questo punto Non può avere nulla Capodomani Streamy Suppongo di si 1 2 3 Ma che cazzo sto facendo C'è qualcosa o no? No non c'è un cazzo A posto Finito Le Mermi Melody Mi avrebbero buttato Sfortuna Faccio un attimo Di pulizia Ragazze Metto via La merda Questo box Fra veramente Da No vabbè Dai Allora le carte Le mettiamo qua Shout out Ai votatori di One Piece Raga Grazie porco di Adesso mettiamo Yugi Adesso mettiamo Yugi Ma vogliamo fare le bet Allora O vogliamo fare la pila Di certo mondo Ci spacchettamenti Che non sono stati Proprio il top Hai più sfiga di Gianna Poker Ma in realtà Sono uno dei più grandi Spacchettatori in Italia Ma infatti Il payoff arriva Vuol dire che Deve arrivare qualcosa di bello Funziona così qua In Italia Nessuno ha fatto pull Come le nostre Bella Marcon E non sto scherzando Eh Gianna Ma si sa Cioè Più sei bravo A fare qualcosa Più la fortuna Sarà contro di te È così in questo mondo Devi dimostrare Di essere sopra Sempre Sotto qualunque condizione E in giustizia È così che funziona Lo so bene Vivono in questa giungla Da sempre Grazie Black Piper Di questa considerazione Sì ho preso Un po' di karma positivo Mi salverò su altre cose Un sondaggio Pila o bet In una chat Di One Piece Ti può andare solo male No beh raga È uguale Cioè Un po' di pila Non mi dispiace Però magari Meglio fare Bet forse Non lo so Poi per One Piece È il pisello delle ragazze Non lo so Lo scopriremo presto Presto Non so Non so Non so